Il 25esimo trofeo Giorgio De Laurentiis che a Villongo in questa domenica 28 aprile 2019 segnerà anche il trofeo rosa per quanto riguarda la categoria femminile. Ovviamente le prime a partire sono le piccole atlete della categoria G1 che stanno percorrendo i due giri dell'impegnativo circuito di Villongo e tra poco vedremo l'epilogo. Un percorso impegnativo lo dicevamo infatti già al termine del primo giro come vediamo dalle immagini il gruppo è allungatissimo e frazionato tra poco scopriremo il nome della vincitrice di giornata vincitrice che si aggiudica appunto la prima gara del trofeo rosa. È un duello a due quello che si prospetta sul finale della categoria G1 femminile con Emma Canobio della Villongo che precede Michelle Spinoni al terzo posto Yushra Fassi. Leggiamo quindi la classifica finale quinto posto per Maya Russo della ciclistica trevigliese quarta Mayra Geroli della Busto Garolfo terza Yushra Fassi della Gedi ciclismo seconda Michelle Spinoni della Prealpino e vincitrice Emma Canobio della Villongo. Vincitura, avventura Vincitura, avventura Vincitura, avventura